Amici di Tele1, ci troviamo quest'oggi in via Metaponto, nell'area urbana di Corigliano, esattamente nello scalo ausonico, per dare notizia di alcuni disagi, di alcuni disservizi dovuti al fenomeno deplorevole dell'ingiviltà di taluni cittadini. Siamo invece proprio in compagnia di un cittadino, che è uno stimato anche imprenditore del territorio, Sandro Caroli, che si fa portavoce di quella che è una legittima protesta e di un sentimento diffuso. Rifiuti gettati per strada. Buongiorno. Semplicemente, qua, su questa via, che è una strada importantissima della nostra città, dove esistono tantissime attività commerciali, esistono quei pochi incivili che creano disagio alle attività commerciali, a se stessi e principalmente, un pochettino, ne viene fuori un disegno di una città abbandonata. Via Metaponto, siamo all'altezza del numero civico 61, dove automaticamente c'è una strada chiusa, dove ci sono quattro palazzine, puntualmente, sollevando il problema ai singoli, ognuno dice, io non sono, evitano di assumere la responsabilità di chi va a buttare la spazzatura, nemmeno nei giorni prestabiliti della differenziata, ma puntualmente tutti i giorni su un piazzale privato e diventa un punto di riferimento, non solo di loro, ma poi sicuramente aggiunte da altre persone che passano sapendo di trovare un punto di riferimento dove buttare la spazzatura, è diventato invivibile. Signor Caroli, il comportamento dei pochi penalizza invece quello dei tanti che rispettano le regole. Cosa chiediamo alle preposte istituzioni? Alle preposte istituzioni abbiamo tentato più volte di coinvolgere anche i vigili urbano, di coinvolgere anche gli operatori stessi che fanno la raccolta e uno ti risponde, guarda che noi o la raccogliamo qui davanti o facciamo il porta a porta così, come dice la normativa, a noi non cambia nulla. I vigili ti rispondono invece che noi non possiamo fare nulla, noi stiamo cercando di fare un appello alle istituzioni di trovare il modo, con delle telecamere, con delle sorveglianze particolari, per vedere di bloccare definitivamente questo fenomeno. E allora grazie a Sandro Caroli, cittadino da sempre impegnato proprio anche per la tutela del territorio, facciamo nostro questo accorato appello alle preposte istituzioni.